Ognuno di noi è chiamato ad amare con i fatti, non solo a parole, coltivando i propri talenti e trascurando le ricchezze di cui invece il mondo non sembra mai sazio. Alla messa celebrata in occasione della prima giornata mondiale dei poveri, Papa Francesco ha ricordato che siamo tutti mendicanti dell'essenziale, dell'amore del Signore e che i talenti ricevuti ci rendono speciali e unici agli occhi del Padre Celeste. Ma essere fedeli discepoli di Cristo vuol dire non solo conservare e mantenere i tesori del passato, ma anche rischiare mettersi in gioco per gli altri perché Dio non è un controllore in cerca di biglietti non timbrati. Nell'Omelia il Pontefice ha in particolare condannato l'omissione, il limitarsi a non fare nulla di male, il girarsi dall'altra parte quando il fratello è nel bisogno, cambiare canale appena una questione seria ci infastidisce. Per il cielo, aggiunto, non vale ciò che si ama, ciò che si dà. La vera forza non sono pugni chiusi e braccia concerte, ma mani operose e tese verso i poveri, verso la carne ferita del Signore. Lì, nei poveri, si manifesta la presenza di Gesù, che da ricco si è fatto povero. Per questo, nella loro debolezza, c'è una forza salvifica. E se agli occhi del mondo hanno poco valore, sono loro che ci aprono la via al cielo, sono il nostro passaporte per il Paradiso. Per noi è dovere evangelico prendersi cura di loro, che sono la nostra vera ricchezza, e farlo non solo dando pane, ma anche spezzando con loro il pane della parola, di cui essi sono i più naturali destinatari. Amare il povero significa lottare contro tutte le povertà, spirituali e materiali.